5, 4, 3, 2, 1, diamo sinistra 2 corda e tieni sinistra-destra 6 sconnesso 30 e alla rete vai sinistra 3 corda 50 e allarga e chiudi destra 3 vai 3 vai e 50 su ponte e occhio sinistra 2 sale 2 sale 50 sinistri e alla siepe tieni sinistra 6 100 occhio destra 3 lunga scende non tagliare buco destro 30 e destra 3 lunga doppia scivola doppia scivola e tieni dosso 30 e destra sinistra 6 e tieni al cartello per 100 e alla griglia tieni destra 6 lunga 30 sinistra 6 per destra 4 e tornante sinistro tornante sinistro tieni destra sinistra 6 50 e al re il destra 5 in sinistra 4 per occhio tornante destro tiralo tornante destro tiralo 30 30 chiudi sinistra 2 per destra 2 apre 50 e occhio ritarda poco sinistra 2 per destra 2 apre e ritarda sinistra 4 in destra 5 e al muro occhio destra 2 chiude chiude per tornante sinistro tornante sinistro sinistra 5 vai e occhio sinistra 4 per tornante destro tornante 30 destra 3 e tornante sinistro tornante sinistro tieni sinistra destra 6 per sinistra destra 4 subito tornante destro subito tornante destro sinistra 6 tieni e occhio taglia destra 5 scende per destra 6 e occhio compressione sinistra 6 per destra 3 chiude 3 chiude in sinistra 6 occhio chicane entrata destra 150 a fine rail sinistra 5 30 e occhio destra 4 non tagliare non tagliare e occhio chicane sinistra chicane sinistra e al palo destra 2 lunga scigola umido in uscita in sinistra 3 20 e destra 4 lunga per sinistra 3 gira e continua in sinistra 4 ricorda prima e tornante destro tornante destro ottimo 100 via tornante sinistro un po' meglio eh tornante sinistra ripeto no tieni destra 4 per 50 sinistri e al rail sinistra 4 tieni 20 occhio taglia sinistra 4 continua 2 e ritarda destra 2 20 e sinistra 3 20 e sinistra 4 tieni e destra 6 30 tornante destro scivola scivola sinistra 5 per destra 6 e sinistra 4 chiude 20 e destra 3 e tornante sinistro non troppo tornante sinistro via diamo 100 fine